Ciao benvenuto nel canale Juventus Oggi, canale incentrato, porta notizie dalla Juve, prima delle notizie, ti chiedo di iscriverti al canale per non perderti niente della Juve, mercato Juventus, non è da oggi che la Juventus prova ad ingaggiare un centrocampista. E i nomi speculati al club è Douglas Luiz, il 24enne centrocampista brasiliano. Altro non è solo la Juventus. Saldatrice Douglas Luiz, centrocampista dell'Aston Villa finito nel radar dei bianconeri nelle ultime giornate dell'ultima sessione di mercato. Come riportato da The Express, infatti, Arsenal e Liverpool starebbero saldando anche il centrocampista. In particolare, il Liverpool sarebbe pronto anche a includere Oxlade Chamberlain come controparte per raggiungere il giocatore dell'Aston Villa. E oltre a loro c'è anche Milano. La Juve potrebbe essere superata dal Milan nella corsa all'acquisto di Douglas Luiz, centrocampista dell'Aston Villa e della nazionale brasiliana. Secondo indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, e riportate da Seoul, il Milan è determinato a portare il giocatore in Italia già a gennaio, anche se c'è molta concorrenza, a prescindere dall'interesse della Juventus. Ebbene la disputa per Douglas Luiz è sempre più aspra. Sei un tifoso della Juve? Credi che la Juventus possa superare le rivali? Lascia la tua opinione nei commenti. Ciao alla prossima volta!